Pareggio ricco di emozioni e di tensione fra Nereto e Tolentino. Al comunale termina 2-2 fra le proteste locali. Per un gol dei cremi si è realizzato all'ultimo minuto. Più di qualche dubbio, in effetti, per una possibile carica sul portiere. Un pari che serve a poco per gli abruzzesi, che oggi forse avrebbero meritato di più. Pronti via e dopo una fase iniziale di equilibrio il Tolentino inizia a duettare con i suoi alfieri offensivi. Al quarto d'ora, Zammarchi salta l'uomo e cade a terra. Per il direttore di gara è tutto regolare. Passano 4 minuti e il Nereto pesca incredibilmente il vantaggio. Da un rinvio difensivo, Boito sfrutta una sponda aerea di un compagno e si invola verso l'area avversaria. Occhi negli occhi con Bucos se lo fulmina all'angolino. Tramortito dallo svantaggio, il Tolentino prova a reagire con Padovani. Blocca in due tempi Palermo. Alla mezz'ora, bella la giocata che libera al tiro Tortelli. La conclusione però è troppo alta. I cremi si sono ancora pericolosi su calcio d'angolo. Il Nereto sventa come può. Da un'imprecisione sotto porta di Boito nasce il contropiede letale del Tolentino. Zammarchi rifinisce bene per Padovani, che ha tu per tu con Palermo e Glaciale, sigla l'1-1. Il Nereto tenta di reagire con Ferrini. Il suo colpo di testa sorvora la traversa. A rientro dagli spogliatoi. La prima occasione è per i marchigiani. Zammarchi in sforbiciato non c'entra la porta. Gli uomini del grosso sono però cinici e dal primo pasticcio della difesa ospite rimettono il muso avanti con Montano. Bravo a scavalcare Bucosse con un dolce pallonetto. Sulle ali dell'entusiasmo, Boito avrebbe subito l'occasione del tris, ma tu per tu con l'estremo ospite non è lucido e spara alto. Nel finale spinge il Tolentino. Tortelli raccoglie un pallone vagante al centroare ed in acrobazia colpisce incredibilmente la traversa. Qualche minuto più tardi. Altra grande occasione per il Tolentino che capita sui piedi di Fofanà, il quale sfiora il palo. Quando tutto sembrava ormai indirizzato verso la vittoria del Nereto, nell'ultimo minuto regolare, ecco l'episodio che decide la partita e scatena le proteste locali. Zammarchi è scaltro e ne approfitta a porta sguarnita dopo un contatto ai danni del portiere Palermo che rimane a terra. Per il direttore di gara è tutto buono e questo vale il 2-2 finale. Non succede più nulla infatti. Nereto e Tolentino si spartiscono la posta in palio. Sì, purtroppo sì. Purtroppo il risultato è bugiardissimo per un episodio, tra l'altro, anzi due episodi. Il primo magari può essere anche discutibile, ma il secondo penso che sia stata una vergogna non dare quel calcio di punizione, quella carica sul portiere, perché veramente invito chiunque a guardare le immagini. Quindi io non so cosa dire. Di fronte a questi atti di protagonismo non so cosa dire. Noi tutta la settimana stiamo qui a lavorare con mille difficoltà e poi subire questi torti non va bene. È una mancanza di rispetto. È vero che siamo l'ultima ruota del carro. Per quanto riguarda la classifica a me meritiamo rispetto come tutte le altre squadre. Questo rispetto non c'è. Questa è una mancanza di rispetto e la cosa a me mi fa anche arrabbiare. Sono uno che gli arbitraggi non li ha mai discussi, anche da giocatore, anche se potevo essere uno che andava anche allo scontro con l'arbitro. Ma ho sempre rispettato questo ruolo, però così non va bene. Ma secondo me io facevo il portiere, non era male. Un pareggio giusto, con due squadre che hanno dato tutto. Noi abbiamo subito due gol su due infortuni, sia il primo che il secondo. E poi non è facile mai andare sotto e riuscire a creare occasioni. Dove fare come oggi i ragazzi che ci hanno creduto col cuore fino all'ultimo. e alla fine portiamo a casa un risultato positivo. Dispiace perché come compito delle occasioni, come approccio abbiamo fatto bene. Però non è facile giocare su questo campo contro una squadra organizzata che ha dato tutto. Sapevamo che era così. Grazie a tutti.